I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 20 e 30 di mercoledì sera ad Abano Terme in via Cesare Battisti per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. I pompieri di Abano intervenuti con due automezzi hanno subito messo in sicurezza il luogo poiché una delle vetture incidentate perdeva carburante. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 intervenuti con due ambulanze trasportati in ospedale. In corso di accertamento la dinamica degli incidenti che ha coinvolto una Lancia Y10, una Citroen C3 e un Alfa Romeo di interesse storico sul posto per i rilievi i carabinieri.